Ciao a tutti e bentornati sul canale, oggi mi vedete con una piega un po' mossa, ho fatto i capelli con il Dyson, ma non fateci caso, mi sono fatta i capelli in 10 minuti e truccata in tipo 15, quindi se non sono propriamente ok è colpa della mia mancanza di tempo, infatti sono super in ritardo oggi, ma ci tenevo a registrare questo nuovo video. E come avrete letto dal titolo si tratta di un recensire una borsa di Uniqlo che è andata recentemente virale su TikTok, veramente in questo periodo la vedo ovunque, la vedo in giro quando esco, letteralmente ogni weekend che esco la vedo almeno su 3-4 persone, su TikTok appunto la vedo anche indossata da tantissime persone, l'ho vista recentemente anche in tanti reel di Instagram, e quindi mi son detta voglio comprare questa borsa per continuare comunque la mia rubrica di influenzata dai social media per comprare determinate cose, ma allo stesso tempo vi voglio fare una recensione su vale la pena comprarla oppure solo una cosa che in hype in questo momento ma non ne vale la pena. Io ho preso la borsa in due colori, in nero e nel colore natural che però è un begiolino molto chiaro, è disponibile in tanti altri colori, credo che siano localizzati nel senso che ogni nazione ha determinati colori, ad esempio mi sembra di averla vista in arancio e anche in verdone qui in UK, ma ho visto diversi video dove c'era anche in blu, in azzurro, in viola, quindi purtroppo per questo credo che dipenda appunto dalla località, ma diciamo che i colori base quindi nero e natural ci sono ovunque. Questa borsa costa 14,90€ in sterline 14,90€ che vabbè mi fa un po' ridere perché non hanno fatto il cambio, ma vabbè non diventerò di colpo povera per colpa di questo euro in più, e anche per farvi capire che magari se la trovate qui in UK non vi conviene di prezzo, anche se ho sentito dire che comunque anche in Italia è abbastanza difficile da trovare. E soprattutto non fidatevi dei negozianti su Vinted perché oltre a vendere tante imitazioni, che vabbè uno dice vabbè è una borsa comunque economica, ci sta a comprare l'imitazione, ma il problema è che le vendono a prezzo veramente veramente lucrato. Tipo io prima sono andata su Vinted e ho visto questa esatta borsa al doppio del prezzo, che mi fa un po' ridere perché questa si trova comunque in negozio, si trova anche online, certo i colori a volte vanno sold out, bisogna un po' aspettare, però io non vedo perché uno debba comprare la borsa al doppio del prezzo, soprattutto quando la restoccano. Ma perché questa borsa è andata così virale? Innanzitutto perché la borsa è mini, o meglio per uniclo è chiamata mini bag, mini shoulder bag, perché appunto è una borsa che si porta a spalla. La potete in realtà sia indossare a tracolla, sia anche portarla così, io comunque la porterò a tracolla. La borsa è di un tessutino di nylon che come potete vedere è tipo un po' con delle righine, che in realtà a me piace molto perché la rende un pochino più particolare rispetto alle borse di nylon che si vedono in giro. Ed è fatta con questa forma a raviolo, perché tutto l'internet la chiama la borsa a raviolo ed effettivamente hanno ragione. E inoltre la tracolla è regolabile, quindi anche in base al fatto magari se avete tanto seno o ne avete poco riuscite a regolare benissimo anche la lunghezza della tracolla e mettere la borsa dove volete. Mi piace anche questo fatto che la fibia della tracolla sia tono su tono e non sia ad esempio, non lo so, argento o oro. Ma infatti in questa nera è nera e questo dettaglio mi piace molto e credo che sia così per tutte quante le borse. Vi faccio vedere com'è fatta dentro e ha ben due tasche che sono queste qui, credo che riusciate a vedere ma su questo lato ci sono ben due tasche. Purtroppo non ci entra ad esempio il mio iPhone, però un telefono più piccolo ci potrebbe entrare ed è appunto un'altra tipologia di nylon, questa volta liscio, sempre tono su tono e anche questa cosa mi piace molto. Ma tornando al discorso del perché è andata virale che oltre al fatto che è assolutamente carina, segue molti trend del momento, quello dell'indossare cose un po' anni 90, anni 2000, che quindi totalmente in trend ed è super economica, ma è anche il fatto che è definita mini bag ma in realtà ci entra dentro veramente di tutto. Ho registrato anche un TikTok di quando sono andata appunto a prendere queste due borse, ve lo metterò qui o magari anche in descrizione il link se volete seguirmi anche lì. E ho visto appunto su TikTok tantissimi video che prendevano in giro il fatto di questa mini bag per il fatto che veramente ci entra di tutto, ho visto anche persone infilarci un laptop ma in quel caso era più che altro per prendere in giro, ma per farvi capire come una borsina così piccolina riesce veramente a fare entrare di tutto e vi farò vedere subito che cosa ci entra. Io oggi uscirò di casa con questa qui nera e vi faccio vedere subito che cosa ci ho messo dentro anche se forse dovrei un pochino alleggerire. Vi faccio subito vedere come si presenta e c'è ancora tantissimo spazio, tenetene conto adesso che andrò a svuotare la borsa. Prima cosa, occhiali. In realtà vi racconto un fun fact, ma questa custodia per occhiali l'ho trovata per strada. Vi giuro l'ho trovata per strada vicino a casa mia, era in tonza, pulitissima, anche delle iniziali che ovviamente non sono le mie, ma siccome io sono sempre alla ricerca di custodia per gli occhiali perché non so per quale motivo ogni volta che li compro non mi danno quasi mai il case, quelli di firmo, io quando ne trovo qualcuno subito le prendo, anzi di solito le compro, quindi è stata in realtà una casualità che io l'abbia trovata per terra, ma qui dentro ci sono appunto i miei occhiali da vista perché oggi ho le lenti a contatto e quindi in caso io decida di togliermele, questi sono indispensabili. Ho poi questa piccolissima pochettina della MAC che ha dentro varie cose tipo una penna, degli elastici per capelli, il collirio, per favore se indossate le lenti a contatto, non vi dimenticate mai il collirio perché quando serve non ce l'avete mai, anche la custodia delle lenti a contatto, qualora io desiderassi togliermele e altre piccole cosine che fanno sempre comodo. Ho poi questo piccolo specchietto che l'ho preso in Giappone ormai nel 2015, sono passati secoli, ed è molto comodo perché potete anche metterlo sul tavolo e si reagisce in questo modo, ma mi piace perché appunto è mega sottile, per fare ritocchi in giro è veramente, veramente top. Ho poi il mio portacatte di Gucci che appunto con la patente, le mie carte di credito, nulla di interessante. Il rossetto che sto indossando oggi, che è questo qui di Wet Wild, guardate quanto l'ho consumato, il colore è praticamente finito, non fatevi ingannare dal packaging che sembra pieno, in realtà è finito, ma io sto cercando di sfruttarlo fino alla fine. Il colore è Rebel Rose, ed è questo rosa che veramente sta bene a tutti, mi piace un sacco, infatti l'ho già ricomprato nuovo. Siccome mi diventano spesso le labbra secche mentre sono fuori, soprattutto quando indosso le tinte labbra, mi porto anche questo piccolo balm per le labbra, di questo brand che io sinceramente non l'avevo mai visto in Italia, ma qua in UK si trova ovunque. Questo è un lip gloss idratante, che è tipo color peschino, tipo la confezione, però poi quando l'ho andato a mettere sulle labbra è più sul rosato. Però vabbè, non che mi interessi particolarmente, diciamo, non più per una questione di comodità, perché appunto per idratarmi le labbra sul momento. E ho poi la mia fotocamera analogica, che cerco sempre di portarmela così quando mi ricordo scatto qualche foto, e questa qui è della conica e l'ho presa su ebay. Se volete magari cominciare a fare delle foto in analogico, vi consiglio assolutamente di prendere una point and shoot, perché sono facilissime, non vanno regolate, vanno tutte da sole, quindi vanno bene un po' per chiunque. E in più su ebay trovate veramente degli affaroni, perché quando andate magari anche nei negozi dell'usato, spesso vi lucrano un po' sui prezzi di queste cosine. Infatti tipo questa stessa fotocamera credo che in negozio costasse 60 o 70, questa io l'ho pagata penso 20 o 30, ed è assolutamente super funzionante e in uno stato ottimale. Ora rimetterò tutto quanto dentro la borsa, ma avete visto quante cose ho messo e la borsa non è neanche piena. Ma giusto per farvi vedere un po' che altro ci possa entrare, ho preso la protezione solare ad esempio, e questa comunque non è piccolissima, e vi faccio vedere subito. Ci entra, vedete? La borsa inizia a essere bella pienotta, ma come potete vedere ci è entrata anche la protezione solare, e anche il mio telefono lo metto in borsa e ci è entrato, senza nessun problema. E se invece di un portacarte volessi un portafoglio mettiamo anche lui, ed ecco qui, tutto in borsa. Certo la borsa inizia un po' a pesare, ma come potete vedere ci è entrato veramente l'universo e la borsa in apparenza è ancora minuscola. Però io personalmente non vi consiglio di caricare così tanto la borsa, sia perché non fa mai bene, ma non fare anche bene per le nostre spalle portare un peso così. Beh, posso dirvi che pesa. Per quanto riguarda la qualità, io ovviamente avendole appena comprate, non so dirvi effettivamente quanto questa borsa sia durevole, resistente. So per certo che essendo comunque in un materiale di nylon, sicuramente va bene per stare sotto la pioggia, perché lo sapete qui in UK piove sempre e anche oggi è una giornata molto nuvolosa. Quindi sicuramente è una borsa molto molto comoda da indossare, molto leggera perché la borsa da vuota è molto leggera. Io personalmente ve la consiglio. Se la trovate in negozio, se la trovate online e volete togliervi lo sfizio di una borsina leggera, carina, adatta a mille occasioni diverse, secondo me questa borsa è perfetta. Quindi direi che sì, ha superato la prova, è una borsa che è andata virale su TikTok, ma che vale assolutamente la pena di acquistare. Fatemi sapere nei commenti se anche voi avete questa borsa, oppure se avete intenzione di comprarla, e anzi fatemi sapere se ci sono cose particolari di TikTok che avete comprato, che vorreste comprare, così magari vado a dare una sbirciata e potrei aggiungere qualche altra cosa per questa rubrica. E noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.